allora ciao a tutti ragazzi buona giornata a tutti oggi vi propongo questo nuovo paint e vediamo è una cosa in improvvisata come fare una galassia naturalmente ci sono altri modi di farla io l'ho fatta in questo modo qui spero che vi piaccia che sia di credimento io mi chiamo Mauro e se non vi siete ancora iscritti al canale vi prego di farlo attivate la campanellina così da ricevere le notifiche in quanto pubblico i nuovi video e se il video ti è piaciuto per favore lasciami un bel like manita sopra ciao a tutti e buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti